bella raga benvenuti in questo nuovo video io sono daemongamer03 e oggi siamo a nuovo video su fortnite raga e finalmente oggi è ritornato dopo ormai si può dire ben due anni quasi tre anni il cappano di mezzo inverno vi ricordate il cappano di mezzo in inverno c'era clackshot dentro voi andate dentro riscattavate i regali di natale che c'erano e mi sa che l'hanno rimesso raga appunto eccolo qui raga il cappano di mezzo inverno ecco qui mi sto emozionando la maglia raga mi sto emozionando tantissimo raga cioè mi era mancato un casino perché l'anno scorso non l'avano messo quest'anno finalmente l'hanno rimesso sono veramente emozionato raga non ho avuto idea vista rifugio madonna che laggata eh intanto si tira un po' laggata il computer l'ho eh c'ho la grafica alta per farvi vedere meglio oh raga non sono quali regali mi sarei spacchettare ce ne sono tanti raga quanti regali ci sono oddio no quanto mi era mancato ah questa volta non c'è clackshot ma c'è come si chiama adesso non mi ricordo il babbo talebano ecco come lo chiamo io non saprei come chiamarlo ecco cioè non mi ricordo il suo nome dal tempo oddio questa skin non la vedo cioè ce l'ho sì nell'armadietto ma l'ho utilizzata pochissime volte non so ancora più il nome da un fuoco vado a vedere raga oddio eh io inserirei a riscattare un regalo direi quali regali iniziamo a riscattare apriamo qui questo questo raga non so da dove iniziare è un'emozione questo gioco mi sta facendo dei regali e mi sa che a tutti voi li fa anche i regali raga per chi ancora deve rinstalarsi questo gioco tipo non so chi ha smesso di giocarci non so e sta avendo questo video vi consiglio almeno per regali per chi vuole rinstalarlo raga quando un gioco mi dà i regali così c'è un'emozione tipo vi dà tipo i regali ecco io direi di partire con questo no vabbè che bello quando un gioco che ti fa i regali mi sa che tutta la mia vita e mi sa che questo gioco mi ha fatto più regali rispetto a tutti rispetto ai miei genitori c'è c'è quanti regali larga porca puttana c'è non ho mai avuto quasi tanti regali ma sinceramente io ci tenevo a tenerli a aprirli verso natale però li siamo a spacchettare già uno dai devo vedere uno cos'è una copertura l'ara cosa viene un altro a il prossimo lo posso aprire domani di regalo il prossimo regalo lo posso aprire domani a tipo ogni giorno posso aprire un regalo nuovo che bello questo gioco quando fai regali mi era mancato tantissimo i regali con di fortnite raga è un'emozione per me c'è non so ho un regalo con cello raga io domani apro questo non me ne frega raga io apro questo voglio dire cosa c'è dentro allora io il primo regalo lo aperto raga facciamo così se arriviamo allora scrivete nei commenti i regali li apro ogni giorno o aspetto tutti per aprirli a natale li apro tutti quanti sarebbe più carino per aprirli natale tipo più spirito natalizio ecco raga comunque per chi questo gioco si se vuole chi vuole può rinstalarselo e c'è il capanno di mezzo inverno che ci sono i regali che vi attengono dentro pronti per essere scattati da voi raga quando una cosa è gratis e ci sono soprattutto i regali quindi le cose ti vengono regalate perché non approfittarne prendere così dal volo è la cosa più conveniente esce dal rifugio raga domani ci vedremo domani al prossimo video raga che praticamente domani farà un nuovo video in cui andremo aprire il secondo regalo ma sapete che apro il secondo regalo dovete dimmelo sapete che gli apro ogni giorno i regali o li apro tutti quanti a natale scrivete come raga nei commenti e prenderanno la decisione più maggiore che la maggiore decisione che mi darete quindi persone mi danno questa dicono così io farò così come avete detto quindi gli aprirò a natale per chi vuole che gli apri ogni giorno vabbè basta scrivete che aprire ogni giorno io le aprirò ogni giorno i regali e quindi ecco andiamo a vedere perché avevo saputo che era anche uscito un nuovo pacchetto che mi ha detto mio amico che è uscito qualcosa di nuovo fammi vedere cosa è uscito oddio quanta roba nuova bella sta skin carina 400 v bucks beh questo ce l'ho quando è uscito questo mi ricordo raga l'ho shoppato appena era uscito bellissimo sto paletto ma allora che bello mi sto emozionando tantissimo soprattutto quando arriva natale su fortnite a me è qualcosa di un momento veramente magico per me c'è il senso è un momento veramente bello per me e se sci è vero l'avevo presa se sci mi ricordo l'altro giorno l'avevo presa prima che mi capitasse che disinstallarsi il gioco per sbaglio lo ristallassi vabbè dato che l'ho ristallato ci ha messo un po ma alla fin l'ho ristallato bella la renegade la tipo di zenzero molto carina peccato non avere v bucks oddio non è male lei mi piacerebbe averla ma oddio cos'è un pacchetto gratis raga un pacchetto gratis non posso regalare non posso regalare è gratis l'ho preso non sta riscattando oh se non la presa fatemi vedere mi sta caricando schermata bianca raga che non mi carica oddio non ce la fa caricare mi sa questa impressione ah ok perfetto va bene armadietto andiamo a vedere quella nuova uscita dove è uscita eccola qui bellissima molto super carina è anche rara di rarità blu molto carina molto carina eh raga che dire no ma io voglio capire bene fatemi capire eh raga c'è veramente è tutto bellissimo ciò che sto vendo mi piace un casino sento che piano piano stanno migliorando questo gioco non so perché ma non lo sento c'è tutto verso natale gioco molto più bello se come si fa a dire che è brutto tutto ciò bellissimo e regali tutto spirito natalizio tutto natale sul gioco c'è qualcosa che non so come spiegato raga bellissimo tutti questi sono i regali anche questi poi mi sa che sono so mi sa che sono quanto l'anno scorso i regali forse sono anche forse di più non lo so ma anche qua cos'è si può qua questo posso vedere questo è una macchina radio comandata tipo un mini quad radio comandata bellissimo e lui non dice nulla lui non mi fa non posso cliccare no non posso cliccare raga vediamo vediamo no no eh la rifugio abbiamo visto tutto ma non ho messo niente adesso lo shop di oggi lo shop del vitico subito del 17 dicembre fra quasi un'oretta esce 50 minuti esce quello del 18 dicembre un nuovo shop vabbè raga questo è quello che hanno messo bellissimo come hanno fatto mi piace molto vabbè raga io concludo qua il video spero che vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti per quello che vi ho detto prima e ricordatevi di lasciare un bel like iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti e ci vediamo al prossimo video bella raga un saluto dal vostro demo game03